un saluto a tutti da snowkills ben ritrovati in un nuovo episodio anzi nell'ultimo episodio di dino crisis 2 allora l'ultima volta eravamo rimasti qui mi dispiace di aver fatto questi episodi così staccati tra loro devo essere sincero però sono avvenuti è venuta questa stare in un momento un po di transito del canale quindi andrà così vediamo se posso caricare posso acquistare diciamo qualcosa che mi servirà ma penso ormai a questo punto anche no anche no e possiamo andare nella porta qui cosa c'è questa porta qui ok le cure a quanto pare non ci servono entriamo sala grande laboratorio ok scendiamo le tante scale del laboratorio con i provettoni e scena filmata iscriviti al canale What? A hologram? How does he know my name? There's not much time left, so I'll explain it short and simple. On August 10, 2055, our Noah's Ark plan became successful. Year 2055? What's he talking about? To save the dinosaurs, we transferred the dinosaurs to this time. Three million years ahead of our time. What? Three million years? Then you're from... But there was another accident when we were about to go back. The gate disappeared and we were stranded in this time. Then this is the future. There was no way for us to survive in this world, where dinosaurs now rule. We, the remaining survivors, hurried to recover the gate. But it's too late now. My wife, Julia, was killed by the dinosaurs. And my loving child, she was hurt. Badly. Paula 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 Is that your name? Paula Paula Pa... Papa... Il mio solo missione ora è proteggere il mio gruppo. Ho mantenuto Paola e i altri bambini sicuri per mettere loro dentro le campanze di vita. Poi, prendi i bambini al vostro tempo. E ora, devo presentare a te. Io sono il former Special Forces Trat member, Col. Dylan Morton. Cosa? Sei la mia in futuro? E allora sei... ...mi... Papa... Eita... P�坐... Di... Uccicl Tomo. La porta è lunga behin' D CONSULTURA È The gate is not complete yet. You'll be able to use it only once. Please, say hello to Regina for me. I'm counting on you, Lieutenant. Andiamo avanti per di qua. Il sistema di autodistruzione è stato attivato manualmente da donazione fra cinque minuti. What the fuck? Tu vuoi attivarlo? No. Con l'utazione pixelosa. Attenzione. Arriva un problema ben più grosso. Del tizio mascherato. Ah, infatti non ci voleva proprio adesso. Vediamo un po'. Wow. Wow. Ok. Allora, qui che cosa si doveva fare? Non mi ricordo, non mi ricordo. Ok. Mi sa tanto che questo cosa non lo tiriamo giù facilmente. Quindi vediamo un po'. No. A spaccare il ponte. Corriamo. Oh, fuck. Male, 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 male. Cosa ha quello a sinistra? Cosa ha quello a sinistra? Rialzati, maledetto! Clicchiamo. Danni confermati nell'area. Trasporti eccezionali. Shit. S'attivazione immediata. Allora, andiamo. Di qua. Vediamo. C'è uno schermo. Clicchiamo compulsivamente. Un pannello. Non l'ho letto. Sistema di attacco satellitare. Lo vuoi utilizzare? Utilizziamo. Comunicazione. Siete aperta. Ok. Torniamo indietro. No, 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 no. Non devo, immagino, riprendere qui. Giusto? Il terminal per condizionare l'attacco satellitare. Per utilizzare di prima una linea di comunicazione. Impostare il bersaglio. Ah, c'ho, ok. C'ha quattro. Quindi forse devo premere altri computer. Dai, rialzati, maledetto. Rialzati. Rialzati. Go back. Abbiamo solo quattro minuti per fare questa cosa. Prima che salta in aria il mondo. Quindi vediamo un po'. Oh, eccolo qui. Un PC. Vediamo qui. Fanculo dinosauro di merda che mi ha tolto mezza vita. Mezza fottuta vita. Rissali. Fuck. Pannell'attivazione. Lo vuoi prendere? Sì. Sì. Si sono attivati. Bersaglio impostato. Forse devo andare a cliccare adesso quello lì. Andiamo, andiamo. Corri, 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 corri. Eh, vabbè, ho capito. Mi stai affamalissimo, ho capito. Curiamoci. Oggetti. Cura. Un bodypack piccolo sarà più che sufficiente. Ok, continua a tirarmi musate in testa. Cazzo, smettila. Maledetto. Oh, niente proprio. Mi deve far male. Niente, niente. Non mi molla sto stronzo. Certo un complimentone a Dylan. Cioè, resistentissimo. Un vero roe. Cioè, resiste a morsicate. I dinosauri. Come non ci fossero domani. Attivare il sistema di attacco? Direi proprio di sì. Inizio attacco. Ok. 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 no io non ci voglio credere non ci voglio credere che si è bloccato ah ok finiva così con il laser sul dinosauro ok andiamo di qua che è l'unica via percorribile praticamente dopo che si è bloccato mille volte il filmato proseguiamo per di qua andiamo nella porta che si è aperta mega portone è il laboratorio dello sviluppo portale ed eccoci qua va tutto bene ci pensa Dylan è arrivata anche Regina stai bene gli chiede si ma non abbiamo molto tempo attiviamo questo portale e andiamocene da qui oh inizia a cadere roba no vediamo che Paula è rimasta incastrata sotto un computer gigante Dylan ovviamente disperato non riesce a salvarla e becchiamoci ragazzi la scena finale si non Quando ti arrivi al nostro tempo original, usate i dati per aprendere la 3rd Energy. E poi crea una gate perfetta per me e prendereci la ultima volta. I... Dylan... I will. I promise. 5, 4, 10, 7, 8. Non dimenticare, tu ancora owni me. Allora, dovresti riuscire a tornare. Papa! e così finisce ragazzi questa serie di su dino crisis 2 che mi è piaciuta molto rigiocarla dopo tantissimi anni rigiocarla a questo gioco se vi è piaciuto anche a voi lasciate anche un bel like e un commento fatemi sapere che cosa ne pensate mi è dispiaciuto soltanto un po' aver fatto questi episodi così staccati tra loro in ogni caso ci sta tutta potete ritrovare tutta la serie completa nella playlist di dino crisis 2 quindi like commento e ci vediamo come sempre nel prossimo video